Noi stiamo potenziando le nostre strutture, quest'anno abbiamo la piscina che sta funzionando in maniera egregia, i ristorantini, i B&B, quindi tutto fa parte, anche questa iniziativa rientra nel discorso di potenziare tutte le nostre strutture, di far sì che il paese diventi un paese di servizi, di accoglienza. Nel futuro, innanzitutto, da quanto stiamo vedendo in questo momento, l'iniziativa sta avendo un grande successo, naturalmente è un'iniziativa che vogliamo nel tempo migliorare e potenziare perché fa parte proprio dell'anima della nostra comunità, in quanto siamo stati uno dei primi comuni della zona ad aver fatto questo campo da tennis, aver creduto in questo sport. Nel futuro, come dicevo, dobbiamo potenziare innanzitutto la struttura, grazie ai finanziamenti del PNRL abbiamo avuto un finanziamento che ci consentirà di adeguare i campi, e di fare anche un campo da padel e quindi di portare avanti questa iniziativa aumentando anche i giorni. Sarà un'estate di molte iniziative, partendo dall'asilo nido, dal campo estivo, dall'inaugurazione della biblioteca, dall'inaugurazione del museo di arte contemporanea che ha sede nel Palazzo Marchesale e tutte queste iniziative saranno concluse con la venuta della scuola estiva da parte dell'Università di Salerno che completeranno tutto il discorso e allieteranno ancora una volta il nostro paese. Assolutamente, è un impegno che avevamo promesso l'anno scorso con mantenuto, poi con l'ospitalità, Giuseppe, il papà, il sindaco, è piaciuto l'anno scorso anche con l'aiuto di Stefano, quindi abbiamo confermato questa settimana e i ragazzi devo dire che hanno risposto numerosi, quindi sono molto contento di questo. Ecco, infatti, vedevamo molti ragazzi già che partecipano, ribadiamo insomma quanto è importante per loro, soprattutto dopo questi due anni di pandemia. Assolutamente, assolutamente, il fatto di stare insieme, cercare anche di insegnare qualcosa in una settimana, può lasciare un buon segno. Poi il sorriso loro, abbiamo cominciato ieri, però visto che si impegnano, molti sono migliorati, poi l'intento è di passare una settimana insieme. La tua presenza sicuramente può candidare a Tattorella a diventare una piccola capitale del tennis? Beh, dare un piccolo supporto, voglio dire, quando c'è un programma serio, con persone serie, io rispondo, quindi non faccio tantissima promozione durante l'anno, però gli appuntamenti dove reputo importanti, dove mi sono trovato bene e penso si siano trovati bene anche loro, poi vengono riconfermati. Quindi col tennis, come ho parlato con Giuseppe e Tancredi, figlio del sindaco, con un buonissimo rapporto, sono sempre molto ospitali, gentili, ma a parte questo, dobbiamo fare un appuntamento in settimana, insomma, parlare anche che, come ho visto le strutture, o quello che c'è in ballo e forse nascerà qualcosa, espandolo un po', anche altre attività, far conoscere di più Tattorella e soprattutto dare possibilità ai giovani di passare una settimana di sport, ripeto, con altre attività che, se vengono organizzate, insomma, il clima c'è sempre buono, ma ho visto anche le strutture che possono rispondere bene, anche l'accoglienza, come numeri di persone, ragazzi che possono anche fermarsi a dormire. Quindi se la cosa, ci sarà un'evoluzione, a mio parere ci sarà qualcosa di molto importante in futuro. Ritorna il tennis a Tattorella, che cosa ci aspettiamo da questa seconda edizione? Allora, ritorna il tennis a Tattorella, ritorna Paolo, che ormai è diventato parte integrante di questo splendido comune che ci ospita ogni anno con questo camp, e siamo contenti perché quest'anno sono più bambini, è più articolato, ci sono più sport da poter fare, dalla pallavolo al padel, fatto un po' in maniera particolare con il campo qui di sotto che ci aiuta, e poi c'è Paolo che si occupa dei bambini.